Una chiesa cinquecentesca che non esiste più, una chiesa della commenda Gero Solimitana di cui resta solo il campanile, un campanile la cui cuspide ottagonale tra quattro pinnacoli in muratura è rivestita da un maiolicato in azzurro cinerino dove spicca una croce blu su fondo arancio, simbolo e dei cavalieri di Malta dell'Ordine di Santo Sepolcro e di San Giovanni Battista, quel profeta che annunciò Cristo già nel grembo materno e che battezzò Gesù nelle acque del fiume Giordano. È la chiesa di San Giovanni Battista che esisteva all'interno dell'attuale Villa Palmeri e di cui oggi ne raccontiamo la storia anche attraverso attente e documentate ricerche nel tempo compiute da Giovanni Maria Lomonaco e da Maria Reginella che hanno frugato soprattutto negli archivi dei cavalieri di Malta proprietari di quanto resta di questa chiesa. Il tutto corredato da tante fotografie del campanile che ho recuperato smanettando qua e là su internet e di cui non conosco il nome dei relativi autori che fra l'altro sarebbero tante quindi me ne scuso con loro se non sono in grado di citare. La chiesa di cui ci restano solo alcune immagini probabilmente dello storico fotografo Michele Salvo nonché un pregevole acquerello di Jean Nouvel che vedete come motivo conduttore dell'intero video che si trova al museo dell'Ermitage di San Pietroburgo che ebbe a visitare nel lontanissimo 1974. Sono passati 50 anni dove si trovano pure un'altra dozzina di gouache che raffigurano i principali resti archeologici e architettonici di epoca romana appartenenti alle terre. Dicevo la chiesa sarebbe stata eretta tra il 1505 e il 1515 e questo secondo Vincenzo Solito e la sua opera Termini Imerese posta in teatro pubblicata nel 1669 e sarebbe appartenuta all'ordine gerosolimitano cioè di Gerusalemme e poi nel tempo divenuto ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme e di Rodi e di Malta ed oggi ordine dei cavalieri di Malta. E' sicuro comunque che la chiesa fu costruita nella prima metà del XVI secolo perché nella sua pavimentazione furono ritrovate ben due lapidi, lapidi funerarie, una del 1570 dove si leggerebbe il nome di Romano che era una famiglia ermitana di quel tempo mentre l'altra riporta un cognome ben definito e cioè Trombetta e quest'ultima lapide si trova oggi presso il Museo Civico. E con molta probabilità erano persone queste presumibilmente cittadini napoletani e che abitavano a Termini e che gestivano la commenda e quindi la chiesa stessa che in quel periodo sarebbe stata retta dall'ordine cavalleresco di San Giovanni Tirrodi. Circostanza questa documentata anche dal fatto che si ebbe a ritrovare un inventario del 1655 compilato da un sacerdote tale Matteo Satariano che trascriveva che fra gli arredi della chiesa era presente uno scudo e uno stendardo con la Croce di Malta e Croce di Malta che si trova pure nella cuspide del campanile. E in quel tempo sicuramente alcune famiglie termitane erano strettamente legate ad una commenda dei cavalieri dell'ordine di Malta come la famiglia Romano o la famiglia Oibonafede anche se tale commenda non ebbe poi una continuazione nel tempo. Altro indizio che va a confermare quanto già detto e cioè che la chiesa sia appartenuta all'ordine di Gerusalemme è oltre alla dedica a San Giovanni Battista la sua pianta analoga a quella che si ritrova nelle costruzioni tipiche di tali ordini religiosi. Sempre nell'inventario del 1655 viene registrata la presenza di un reliquiario d'argento con otto angeli e una statuetta di San Giovanni Battista sempre d'argento dove a quanto pare veniva inserita una reliquia del santo, reliquiario che probabilmente fu spostato nella chiesa madre assieme ad altri oggetti sacri. Ma come tiene a sottolineare l'esimia professoressa Maria Concetta di Natale di questo reliquiario non si ha più traccia. Nel 1736 l'Arcifascolo di Palermo Domenico Rosso, nell'anno successivo, nominato poi cardinale, visitò la chiesa di San Giovanni e qui in un suo resoconto riportò che sull'altare maggiore era esposto un dipinto attribuito a Vincenzo la Barbera, la nascita di San Giovanni Battista che si trova oggi nel nostro museo, come potete qui vedere. Datato nel 1607 ed è erroneamente attribuito a Francesco la Quaraissima che era nato nel 1591 e poi deceduto nel 1668. Come attestano, il Baldassare Romano e il sacerdote Malchiorre Galeotti. Così come la decollazione di San Giovanni Battista, ancora nel nostro museo che propongo qui alle mie spalle, erroneamente ai tempi fu attribuita a Pietro D'Asero, detto anche il monocolo di Racalmuto. Nei due inventari, quello del 1655 e quello del 1736 risultano ancora altre tele che riproducevano il santo, nonché anche un piccolo quadro raffigurante Santa Rosalia. Poi ancora diversi paliotti ornati con la Croce di Malta ed ancora una pregevole statua linea di San Giovanni Battista che qui vedete alle mie spalle. Oggi è esposta sempre al Museo Civico, opera di un artista ermitano, l'intagliatore Giacomo Dileo. E qui voglio ricordare che nel Cinquecento esisteva a termini una importante, direi importantissima, scuola di intagliatori ed oggi purtroppo non esistono più. Il Dileo è anche autore di quel crocifisso in legno che si trova nell'uomo di Termini nella cappella del Battistero, entrando la prima a sinistra. Nel 1868 la chiesa di San Giovanni fu occupata dalle truppe militari per farne deposito di materiali e quindi la municipalità di allora ebbe prontamente a trasferire i quadri e tutti gli oggetti di culto nella vicina chiesa madre. La chiesa continuò ad essere deposito fin quando nel 1924 crollò per effetto della mancata manutenzione. Cosa rimane? Cosa rimane? Rimane solo il campanile. Quello che vediamo oggi è che nel 2006 fu restaurato a cura della regione siciliana e della Fondazione Donna Maria Marullo, istituita dall'Ordine dei Cavalieri di Malta. Un ottimo restauro che mette peraltro in risalto la bella cuspide del campanile rivestita da mattoni maiolicati policromi. Sono mattonelle quadrangolari circa 15 centimetri per lato decorate con foglie e frutti in giallo e arancio e con un nastro azzurro che nell'insieme formano una rete di irlandine con un fiore azzurro al centro. Una copertura questa completata da quattro croci e poste nei quattro punti cardinali affinché i naviganti potessero riconoscere dal mare la sede dell'Ordine di Gerusalemme. Questo quanto suppone la storica dell'arte Maria Reginella che fra l'altro ritiene che dette mattonelle sarebbero state realizzate a sciacca e qui a termini trasportate su una nave, magari di proprietà di un commerciante appartenente all'ordine stesso. Molte di queste mattonelle nei secoli successivi per cause varie quali fulmini o la stessa usura del tempo vennero irrimediabilmente danneggiate e sostituite da altre inconsimili realizzate nelle botteghe di Palermo. Dipinte però in maniera sommaria e in serie, differenze che si possono notare solo fornendosi di un binocolo. Bene, ancora per concludere, vorrei anche concludere, devo concludere, vorrei concludere però in maniera graziosa e meno retorica, vorrei qui raccontarvi una antica leggenda che ovviamente rimane leggenda, così come peraltro tali leggende su San Giovanni si raccontano in tanti paesi d'Italia, adattandole al territorio dove vengono narrate. Questa leggenda riferisce di una principessa, Salomè, figlia di Erodiade e di Erode Filippo I, che iniziò addirittura a corteggiare San Giovanni Battista, ma questi da buon santo rifiutò le sue avanze. Salomè, risentita e non accettando questo rifiuto per vendicarsi, decise di irrecarsi dal padre e ne chiese la decapitazione di San Giovanni. Così avvenne, San Giovanni Battista fu decapitato. La vendetta però non portò pace. Si racconta infatti, sempre leggenda, che mentre camminava le orme che lasciava erano piene di sangue ed ogni volta che provava a dormire, ad addormentarsi, le appariva un uomo decapitato. Decise quindi di viaggiare in lungo e largo per l'Italia ed arrivò, figuratevi un po', nella città di Termini e qui fece sorgere una chiesa in onore del santo martire. La chiesa di San Giovanni. Ma neanche questo gesto, le diede pace, in quanto accanto alla chiesa appena costruita, sgorgò una sorgente di sangue. La poveraccia, presa dal tormento e dallo sconforto, decise di gettarsi in un fiume, probabilmente il San Leonardo, e lì morì, scomparendo del tutto. E così come tutte le antiche credenze, si racconta che salome, appaia il 23 di giugno di ogni anno, la vigilia della festa del 24 giugno, e si rigetta nel fiume, oggi forse nel mare, non essendo più il fiume attivo, per scontare la sua eterna pena. Qui finisce la storia e la leggenda di questa antichissima cinquecentesca chiesa, per dar posto però alla consapevolezza che ognuno, per la sua parte, municipalità e cittadini di qualsiasi età, cultura e direi anche religione, deve far di tutto per conservare integro questo campanile. Testimonianza di un secolo, il sedicesimo, dove tante tessere hanno messo insieme un grande e vivace mosaico creativo e culturale che ha caratterizzato favorevolmente, direi splendidamente, l'ambiente termitano di quel tempo. Purtroppo oggi è tutto cambiato. Alla prossima!